In occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime sulla strada, Fabio Pugliese, cofondatore dell'organizzazione di volontariato Basta Vittime sulla SS106, ha commemorato le tragiche perdite avvenute sulla strada 106, definita proprio la strada della morte. Tra le vittime ricordate Antonello e Domenico Romeo, Elisa Pelle e Teresa Giorgi, deciduti il 6 gennaio 2024, una tragedia che ha lasciato un vuoto incolmabile, una bimba di 7 mesi senza madre e due bambini. Il 22 febbraio la stessa strada ha portato via Marco Pezzati, calciatore di 31 anni. Pugliese ha menzionato anche il dolore della famiglia di Alfredo Aleardi, morto a 32 anni l'11 febbraio, e il banco vuoto di Mattia Porto, 17 anni, vittima del curvone della morte il 4 febbraio. Commovente il ricordo di Alessio Legato, i cui organi hanno salvato altre vite dopo il suo decesso il 29 aprile. Il pensiero si è steso anche al dottor Salvatore Mustara, morto il 30 aprile, lasciando moglie e tre figli e Maria Teresa Boccuti, deceduta il 16 maggio. Tra i giovani persi anche Eugenio Lupo, finanziere di 28 anni, e Luigi Frustaci, 24 anni, entrambi scomparsi a giugno.